Allora io oggi vorrei trattare un argomento che ci ha visto dibattere in maniera molto molto viva direi, che è quello del protagonismo degli studenti e dell'organizzazione dei gruppi di lavoro. Questo è un tema complesso che richiede un'ampia discussione, ovviamente non sarà questo il momento di farlo, ma qualche accenno, qualche riflessione la possiamo comunque puntualizzare, fare. Il protagonismo degli studenti, cosa vuol dire protagonismo? Io su questo termine ho sempre posto e voluto porre molta attenzione. È protagonismo quello, i ragazzi diventano protagonisti nel momento in cui loro veramente possono esprimere il loro pensiero, la loro idea, possono raccontare come vogliono portare avanti il loro processo di apprendimento, le modalità con cui studiare, come vorrebbero sviluppare i propri talenti, quali sono le criticità che loro avvertono fortemente, quindi guardare la scuola con i loro occhi. Cioè questo per me è fondamentale, dare la possibilità ai ragazzi di esprimere il loro pensiero, la loro creatività, ciò che loro veramente pensano e come vorrebbero portare avanti il loro percorso di formazione. Il docente questo raramente lo fa, raramente lo fa perché il docente, ma anche io per tantissimi anni, preparavo la lezione, andavo in classe e organizzavo la lezione secondo il mio punto di vista. Lo studente comunque sempre accettava o doveva accettare ciò che io in quanto docente proponevo loro. Solo negli ultimissimi anni direi, da quando ho introdotto il mobile device eccetera, dal 2010, io ho incominciato a cambiare posizione. Cioè io entro in classe non avendo una organizzazione mentale di come strutturare la lezione, ponendo il problema, ma poi lasciando liberi i ragazzi di raccontarsi, studiare, ricercare, lavorare, aggregarsi come meglio desideravano. Secondo me addirittura, e questo io l'ho già detto anche nel video, addirittura una cosa che secondo me è importantissima, far lavorare con noi ragazzi quando progettiamo. Perché i ragazzi si sentono veramente protagonisti quando si sentono presi sul serio, quando si sentono ascoltati, quando sentono che la scuola sta rispondendo alle loro esigenze e non sono passivi ad accettare quello che è il docente o i docenti hanno deciso per loro. Questo secondo me vuol dire veramente coinvolgimento e protagonismo. Potrei sbagliare, per carità, però io credo che il docente debba un po' resettare quello che è il suo modo di fare scuola tradizionale, che tutti noi abbiamo, perché noi abbiamo fatto da studenti la scuola in una certa maniera, abbiamo fatto l'università in una certa maniera, abbiamo sempre insegnato in una certa maniera. Quindi ribaltare completamente questo ruolo non è sicuramente semplice o facile. Questo comporta che anche l'organizzazione del lavoro in classe, per come la vedo io, è molto diversa da tante organizzazioni così come vengono fatte secondo delle metodologie didattiche predefinite o definite, che io rispetto, ho svolto anche io in classe ovviamente, ma l'organizzazione del lavoro in classe, dal mio punto di vista, non può essere organizzato dal docente, a meno che non ci troviamo in una situazione veramente di ragazzi che non hanno nessuna regola, non hanno nessun senso di responsabilità, non sanno gestirsi in nessuna forma, allora è chiaro che il docente deve intervenire, è ovvio, ma laddove, se noi vogliamo far acquisire ragazzi autonomia e responsabilità, che sono le competenze che secondo me sono alla base, no, proprio della formazione del ragazzo stesso, il primo step è quello di dare loro autonomia, dare loro responsabilità, proprio scelta del modo di lavorare. Così io intendo il protagonismo. Non so, Marcello, abbiamo magari delle visioni un po' diverse in questo senso. No, io penso che come punto importante è che di questo protagonismo degli studenti se ne sente molto parlare. Il perché però farlo, cioè perché cambiare anche modo di fare scuola e quindi rendere protagonisti i ragazzi, parte proprio dal fatto che, come dicevamo all'inizio di queste chiacchierate che noi abbiamo fatto e che abbiamo di fronte dei ragazzi che sono dei ragazzi diversi, sono dei ragazzi che vivono anche in una realtà diversa. Il protagonismo dello studente secondo me va incontro a una serie di difficoltà che noi riscontriamo proprio nei ragazzi di questo momento. Stiamo parlando ad esempio di una minore competenza nello scritto e nell'orale, quindi il protagonismo dello studente mette lo studente in grado proprio di maggiormente favorire queste che sono delle abilità. L'altro aspetto è ad esempio la scarsa predisposizione a leggere, ad approfondire e quindi all'essere magari passivi e a rimanere solamente in un determinato ambito molto ristretto di conoscenze. L'altro che di solito viene citato è la scarsa competenza nello studio, nel metodo e nell'approccio dello studio. Ecco, questi sono tutti aspetti dove secondo me il protagonismo dello studente va incontro proprio alla risoluzione di quelli che sono alcuni punti deboli dei ragazzi in questo momento, che è molto diverso da quello che potevamo vedere 20 o 30 anni fa. I cambiamenti ci sono stati e questi cambiamenti hanno e devono per forza avere delle ripercussioni nel nostro modo anche proprio di affrontare la didattica, gli ambienti di apprendimento che sono assolutamente diversi perché quando noi rendiamo protagonisti gli studenti dobbiamo cambiare i nostri luoghi di lavoro, dobbiamo cambiare la nostra aula perché anche quello ha un riscontro nel protagonismo degli studenti. Come dire, da una parte il protagonismo degli studenti viene incontro a quelle che sono delle esigenze dei ragazzi di adesso e dall'altra parte rende la nostra attività di docenti per forza diversa nell'affronto del singolo giorno scolastico, giornata scolastica? Beh, vedi io di solito sento dire io rendo protagonista il ragazzo perché lo lascio libero di creare un manufatto, creare un prodotto dopo aver fatto una certa ricerca, dopo aver stabilito un percorso che il docente ha definito con degli step determinati, cioè mi spiego meglio. Se io entro in classe e organizzo la mia lezione, do un compito, una sfida, un'idea, un concetto su cui i ragazzi devono lavorare, dal mio punto di vista il protagonismo non è lasciare i ragazzi dicendo allora vi organizzate questi gruppi, ancor più se poi i gruppi li strutturo io, ancor peggio vorrei dire, no? Perché allora vuol dire proprio che sto gestendo l'organizzazione della lezione, do loro delle indicazioni molto precise su come svolgere il loro lavoro e poi li lascio liberi, no? Di portare avanti la ricerca. Li lascio liberi anche di creare il prodotto che descrive il loro, la loro ricerca. Poi io alla fine li valuterò in base alla restituzione di questo lavoro. Ecco, questo per me è un protagonismo molto parziale, cioè di fatto, e questo mi è capitato una volta che sono entrata in una classe, dove vedevo dei ragazzi che lavoravano in gruppo proprio in questa maniera, nella fase della ricerca del lavoro, no? Della elaborazione dell'artefatto. Ecco, io ho chiesto ai ragazzi, ma a voi vi piace questo lavoro? Vi trovate, siete coinvolti? Quanto vi entusiasma questo lavoro? E loro mi hanno risposto, questo era un istituto tecnico, è delle marche peraltro, e loro mi hanno risposto dicendo ma sì è un lavoro che mi ha dato il docente, è una ricerca da fare, la sto facendo e siccome questa risposta io la vedevo con i miei studenti, con i miei studenti, cioè non c'era l'entusiasmo che io pensavo, mi sono resa conto che finché siamo noi che comunque diamo, organizziamo, gli strutturiamo le ore, gli diciamo il lavoro, come lo devono svolgere, gli diamo tutte le indicazioni, loro si sentono comunque passivi, cioè si sentono comunque come qualcosa che mi viene dato dal docente, ma dove io non sono effettivamente protagonista. Ecco perché io dico se noi docenti invece creiamo il progetto ascoltando gli studenti e seguendo l'idea anche degli studenti che ci danno anche delle ottime idee e io faccio dei gruppi molto liberi, no? Non sono gruppi poi di fatto, i ragazzi agiscono e si muovono a secondo e si aggregano come meglio preferiscono, utilizzando gli strumenti che loro devono avere a disposizione che siano digitali, siano analogici, cioè tutto ciò che a loro serve per poter lavorare, come in un campus, no? Dove si lavora tutti insieme per arrivare ad un progetto comune. Ecco sono delle posizioni molto diverse e che poi mi si dice che è difficile poi la gestione quando tu lasci liberi i ragazzi che magari sono poco scolarizzati, che non hanno, che non seguono delle regole precise. Io mi sono accorta che il caos nasce sempre quando loro hanno finito di lavorare, ma finché loro lavorano e sono liberi, liberi in un ambiente, attenzione, in un ambiente liberante ma non libero da regole perché delle regole devono essere prefissate all'inizio, no? Cioè ci sono dei patti educativi che bisogna mettere ben in ordine sin dall'inizio. Però ecco attenzione a questo concetto di protagonismo perché qui tutta la scuola può cambiare il ruolo del docente, la modalità di progettare, la modalità di portare avanti un'idea, di lavorare, io dico sempre di lavorare, aggregarsi per fare acquisire loro competenze e non semplicemente le conoscenze ovviamente. Eh ma è un tema su cui andremo ancora, che andremo ad affrontare anche in altri momenti.